e ben ritrovati amici di yoga volcitalia siamo nel video di shogu vs gnambo che ormai è diventato stef shogu vs gnambo facciamo una cosa a tre con la gnambo no no iniziamo già malissimo il video stef saluta per favore che siamo già fezz 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 non stef ricordate come è fezz cos'hai da dire preferisci stef con due f o fezz come come soprannome ah ok perfetto allora ti chiameremo fezz allora vi ricordo che in descrizione trovate il canale telegram e disease da mogul x per tutti gli aggiornamenti poi andate a seguirci poi avete anche il link per abbonatevi per solo un euro con i vantaggi incredibili assurdi e direi che possiamo iniziare con gli stage segreti gnambo e cose qua tutto vedete team è strana perché sto provando l'autoclicker arriverà il video lo farà il fabione scrivetevi iscrivetevi lasciate like attivate la campanella vi vedo è che non vi iscrivete comunque andiamo subito da a vedere gli stage segreti e andiamo a sottare la gnambo e vi dico anche come si sbloccano cioè ma che cosa stiamo parlando ma che contenuti vi porto comunque questo quando avete già visto che era in live abbiamo abbiamo reclutato il dragone zzz c'è nevaria c'è komasan c'è un po di tutto vedrete le robe allora il primo stage segreto l'abbiamo già completato l'ha fatto fabio e ha detto non farlo faccio nel video l'ha fatto comunque però vi dico come si sblocca stage segreto 1 si sblocca creando un po di grandezza 12 nello stage 9 nello stage 9 fate un po di grande 12 vi si apre lo stage e tutti felici e contenti poi andiamo nella seconda mappa perché lo stesso il secondo stage segreto è quello che serve per la gnambo dobbiamo ancora sbloccare ovvero si sa di fare due punti grandi no non è vero non stai zitto non è vero così devi fare un punti di 22 c'è di unire 22 punti tutti insieme nello stage 23 no stefina stai zitto che tu non sai le cose io sono shogin e lei è pezzi shogin e pezzi nuova ship 2021 allora ci dissociamo tutti quanti allora facciamo i puli del dragone così almeno siamo tutti più contenti ti piace il nuovo dragone step secondo te è forte non è nemmeno così tanto impossible l'ha battuto pure jackpot ragazzi vi faccio capire il livello di questo imposto a rinneri nero un bel dito nel nero un bel dito però noi siamo e stavolta potrebbe veramente arrivare il video abatto il prossimo studio senza bonus che molti ne hanno criticato il video eh ma non è vero non è con i bonus probabilmente arriverà quel video lì adesso se riusciamo possibilmente a fare questa missione prima che io uccida questo yukai possibilmente gioco gioco ti prego gioco mi droppi sui puni guardate qua che si è stoppata anche la musica bluestacks ragazzi è fatto da dire io continuo a ripeterlo bluestacks il miglior modo per giocare a puni puni giocata con i puni da bluestacks ok non è vero sta scherzando qua addirittura sbaglio vabbè per uno tanto non è per uno non è importante guarda 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 aspetta un attimo che è fatto eh che facciamo ok ci abbiamo fatta ragazzi è un po' 34 abbastanza grande faccio vedere anche il suo energy max eccolo qua bellissimo è un random popper utilissimo il gire level 5 fai degli ok guarda della madonna il gire level 5 tra l'altro questo evento qua è anche farmabile quindi arriveremo un milione di punti eh se stefan non li usa arriveremo un milione di punti ancora eh è vero è vero è da 320 che non pull vero è vero è vero perché sono io cattivo che non lo faccio pullare ok abbiamo sbloccato lo stage adesso lo andiamo a completare eccolo qua easy easy eccolo qua vediamo un po' che c'è nella stage ah c'è lui ragazzi spettacolo come si chiama questo yokey stef dimmelo in 5 secondi 3 2 1 eh niente dislike per stef che non sia il nome di yokey eeeh dovresti comunque saperlo no no hai già più 10 quindi non lo possiamo maxare tutto bene direi che facciamo un energy max del gacuda e no vale non c'è problema proprio qua molto difficile questa stage devo dire non ha difficoltà incredibile ora vi faccio vedere anche come si sblocca lo stage terzo stage segreto e poi andiamo a pullare agnambo trovate una zz qui in questa agnambo troviamo uno z troviamo l'astici raccoma vero fezz si si allora il segreto 3 invece si sblocca facendo una combo di 15 più nello stage 39 andate con un extreme pop però con un tracer ce la fate tranquillamente abbiamo già sbloccato andiamo a completarlo e di morbidezza proprio è questo però se lo ricorda quelli che vogliono lui se li ricorda i yokai stef non va bene non va bene non va bene non va bene così stef non ci siamo non sei in forma non ti vedo in forma vabbè che io lo chiamo per registrare le nuove di mattina però dai un attimino di guarda c'è pure cagato il cibo che gli ho dato visto bellissimo ok adesso vi dico anche questo per le gnambo oh c'è un segreto è un pazzisco è un pazzito un segreto allora vi dico anche questo per le gnambo che sono queste qua io l'abbiamo già completate perchè io sono male lo fate con game guardia no non è vero non fate game guardia no non usate game guardia e iscrivetevi allora la prima si fa facendo lo stage 1 poi lo stage 13 che è gbanyan b lo stage 28 che è yopplebot lo stage segreto 2 che avete appena visto come si sblocca lo stage 45 senza continua e fare uno square attack senza un punteggio preciso voi lo fate potete fare anche uno di punteggio e ve raccontate allora andiamo 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 sei carico sei carico per trovare il nulla e il vecchietto e il vecchietto è già attivo da ieri quindi non serve però aspetta guarda un po' qua cosa abbiamo ancora dallo stesso evento abbiamo questo e abbiamo questo da soltare eh vai andiamo col daruma coin andiamo col daruma coin dai z ora ci esce la rainbow col daruma coin impazzisco ok oro mi ero spaventato eh però quattro oro fermi 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 perché qua possiamo trovare roba eh possiamo ogni tanto la musica si riattiva ogni tanto la musica si riattiva non si sa bene possiamo trovare anche il velenotto extreme esatto io ho molta paura prima biglia niente ha laggato e mi sto spaventato seconda biglia eh vedi velenotto hai chiamato velenotto è arrivato terza biglia niente cucchia biglia ma ti hai avuto pepepe ma come? bellissimo il daruma coin ragazzi eh comasan shadow side tanta roba è qualche monetina andiamo a sottarci un paio di quest'altro arriverà un video con sottate di coinvai dove troviamo anche nei vari extreme quindi iscrivetevi attenzione oro oro dacci tripla s tripla s la coniglietta niente la coniglietta è quella che ci ha anche questo evento ma esatto la versione 0 è entrata quella normale non con la versione z io ne sotterei un altro e poi andiamo con la gnambo cosa ne dici i fezz 9 trigger vai vai cosa che trigger rimane con le monete non 10 eh vabbè vai biglia d'oro triple s impazzisco gbagliano ss va bene eh queste monete qua fanno un po' cagare le monete quelle belle erano le monete d'oro che davano zzz ora c'è la roba grossa la roba grossa può uscire la rainbow ma neanche apri l'ultimo ah ne apri un'altra non lo so dimmi tu ne apri un'altra si apri al 9 trigger vai 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 andiamo con 8 perchè così ci rimangono 8 minuti dall'ottavo anniversario vedi vedi tutto collegato vai 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 soltiamo un'altra oro un'altra oro non so che puoi trovare solo oro forse sono io che sono usculato e trovo solo oro il cane no il primo SS lui era un booster il cane quello del servitore di elma va bene no non voglio sottare 3 vai vai sei pronto? sei pronto a sottare la gnamo? vuoi trovare la rainbow zzz? io non mi aspetto nulla eh perchè già un'altra volta c'è se ti puoi trovare io voglio trovare l'altro doppio z perché l'ho trovato ti puoi trovare nuova non c'è nuova è sempre la stessa pull quella con quella con Amaterasu vai ti prego se ci caccia la rainbow salto dalla sedia eh no niente no ma è lo stesso che ha trovato Damiano questo ma mi prende per il culo ma cos'è ma l'ha trovato anche Damiano sto schifo ma seriamente ma seriamente io ho trovato lo z ma non è vero vabbè comunque sono soddisfatto eh non puoi trovare ogni moneta un doppio z dai eh non ci siamo eh abbiamo trovato cos'è sto filtro qua? ah è quello dei fili sfuggenti abbiamo trovato dove questo qua sono già contento io di trovare questo qua quindi vi ricordo che in descrizione trovate il canale telegram gruppo telegram telegram le guide google drive da yoga in spagna trovate un po' di tutto in descrizione iscrivetevi abbonatevi link in descrizione per abbonarvi saluta Fezze che abbiamo finito qua eh vabbè eh niente eh è così quindi iscrizione iscrizione like e campanellina e noi ci vediamo ad un prossimo video adios grazie grazie grazie